questa mostra david bowie è stata fatta tutta con materiali riciclati spazzatura spazzatura rifiuti cose di questo genere david bowie e la potete trovare schumacher se fa vino uccelli pellegrini bebevio e gono tomba pantani valentino rossi simoncelli senna zoff maradona cobi bryant la potete trovare a punte d'era al palp verdone sordi bellucci massimo troisi al palp la mostra è stata inaugurata oggi e si chiama scart sono ritratti di personaggi famosi